Una parte della classe di Alessandra Turri, ok? Questa sera vi chiuderà la serata con un pezzo che si chiama ASS Steve Wonder, Maracanta, George Michael e Mary J. Blige, wow! Mica fuffoli, eh? Ok? Io farei un grossissimo applauso innanzitutto al magazzino di Gigi e Bess che ce l'ho citato per questa sera e che ci ospiterà ancora lunedì prossimo con grandissimo entusiasmo e la maledettina di Renato Tambi e da Springsteen che indossa questa sera, Dennis, eccezionale! Ringrazierei tutti gli insegnanti che hanno partecipato in questa serata e che ci danno la loro energia settimana dopo settimana dopo settimana. Come ve li elenco tutti e sicuramente mi dimentico qualcuno. Simone Rubinato on the bass! Assia Scarpurla on the drums! Giorgio Pancaura on the piano! Alessandro Di Paola! E lui non l'abbiamo presentato prima perché insomma fa un corso di quelli, sapete quelli fangosi, quelli che... Vieni Ale, vieni qua! Lui fa teoria, armonia, composizione! Lui va lasciando di Paola! Yeah! Questa è stata molto può... C'è Federico Memme? Non può passare però di ingraziare. Vedi i beccoli? C'è Federico Memme e una chitarra che questa sera non hanno potuto lasciare con noi però... Le prove, sti musicisti... Che palle sti musicisti, ok? Che mi dimentico, alzate le mani? Insegnanti, alzate le mani! Alessandra Turri! Ok, vi aspettiamo alla galleria dei suoni. Dior Mea 34! Non è dove si spavano, lì è il corso Raffaello. Dior Mea si sta bene, alla grande, ok? Angolo Corso Marconi. Bravo, bravano! Vedo visi nuovi qui, che non hanno... Va bene. Carlotta! Yeah! Luisa! Yeah! Yeah! Buonanotte! Ci vediamo l'uno di prossimo, grazie! Il microfono! Ah, non ho perduto. Questo poi è mio. E' qua! E' qua! Molto felice! Perché sono molto... Vincere a me! Mm-hmm! Con fidate! No, è una bella la facciata! No! C'è via! C'è via! Grazie per la visione 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 Grazie per la visione